musica 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 ragazzi eccola pressa alza bello stanno arrivando lì stanno arrivando lì silenzio ragazzi stanno giocando un pochettino musica 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 dunque professore la gambizzazione va eseguita secondo il metodo capone ovvero l'angolazione del braccio deve stare un'apertura di settanta gradi no forse sessantacinque aspetta che non mi ricordo bene se è sessantacinque o cinquantacinque gradi permettetemi professore un attimo ma tu vieni qua si si vieni qua questa è sceberi che ha la gamba lunga ha lungo la gamba allora l'apertura del braccio più o meno è a 45 55 sarà più ah vabbè saranno stati 45 gradi 55 direi io benissimo professore poi magari vuoi un prosecchino al barco? no non lo vuole vabbè allora il metodo capone e questo è facilissimo dunque salvatore ha ammazzato a toni per don vito allora salvatore non comune di picciotto ha ammazzato verbi di dover familiare che ovviamente è un dover toni non comune di pentito per don vito per don vito per don vito complemento dimandante complimenti al no complemento dimandante comple complemento dimandante vado professore serviva perché dovevamo usare questi modi barbari dovevamo ammazzare questo paparaggio che stava qua ma io direi perché non li ammazziamo tutti quanti questi quattro pezzetti che se ne vengono qui in università e fanno una filtramenta alla mensa e poi stanno sempre nei corridoi che non fanno niente io propongo una cosa una bella università a numero chiuso allora legare bene i polsi e le caviglie dell'infame come l'usciato nella figura 1 ecco polsi e caviglie a posto ecco così poi ah si oh non tenga volare c'è scritto qua dare un geffone del suo sore dietro la nuca dell'infame dall'alto verso il basso guarda qua è scritto è piccolo però che qua è scritto comunque poi fare due giri di corda intorno al collo fino a far diventare violaccio il volto dell'infame violaccio insomma ancora un po' rossiccio aspettiamo un altro poco figura 2 poi insultare e minacciare la famiglia del disgraziato ok schiaffeggiandolo ripetutamente come indicato nella figura 3 nella figura 3 oh mamma mia una femminuccia sei vabbè facciamo finta che te lo date va bene comunque poi a piacimento si può anche mettere un limone in bocca per una questione estetica eh ma tu c'è il bavaglio quindi niente o un altro ortaggio a piacimento vabbè allora prendiamo prendiamo questo vabbè dai questa te la risparmi dai questa qua te la risparmi l'incappertamento è completo ora potete procedere al passo numero 2 felicità è una canzone pazza che cantare mi fa una modica che prende che ballare mi fa felicità felicità è una canzone pazza che ballare mi fa una musica che prende che ballare mi fa felicità 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 se sei giù perché ti ha lasciato se per lei se ho sbagliato se non sei mai stato un artista o non hai lo sguardo da pista se perché non sei la maglietta e non hai guardato la tetta io non guardo mai nel passato ma strano poi allenato